Continuano ad arrivare messaggi di auguri anche stanotte, anche questa mattina. Io mi rapito davvero fortunatissimo ad avere questa valanga di affetto da parte vostra. Volevo solo ringraziarvi davvero di cuore e a nome di tutti gli auguri che mi sono arrivati vi faccio vedere questo, di questa bimba di 5 anni. Siamo io e lei con una torta meravigliosa e la candelina da spegnere. Ecco, con questo regalo speciale voglio ringraziarvi davvero tutti. Buona domenica. Grazie.